Vediamo come si sviluppa una fotografia HDR su Photoshop. Abbiamo qui queste tre immagini, sono state scattate con la camera su un cavalletto, con il bracketing delle immagini, quindi tre esposizioni. Noi andiamo ad aprire File, Automatizza, Unisci come HDR Pro. Questo è il pannello di HDL Pro, a questo punto noi facciamo sfoglia, ci dà una finestra. Io per fare prima prendo le mie immagini e le sbatto dentro, per non dovermi rifare tutto il percorso. Sono già selezionate, gli dico apri. Tenta di allenare automaticamente, servirebbe se io le avessi scattate a mano libera, ma siccome le ho scattate sul cavalletto non c'è bisogno, quindi lo tolgo. Perché lasciarlo abilitato fa sì che Photoshop vada a cercare delle differenze tra un'immagine e l'altra e vada a cercare di riallinearle, quindi ci mette di più a processarle. Per questo motivo, se so che ho usato il cavalletto, lo tolgo. E gli dico ok. E questo è il pannello con le tre immagini, con le tre esposizioni già miscelate. Io vado a dargli un command più, così la vediamo un pochino meglio. Io utilizzo uno dei miei preset che è Interior One. Le impostazioni sono esattamente quelle che vedete, quindi nessun segreto. A questo punto possiamo agire sui parametri per andare a migliorare un pochino la nostra foto, per cui per esempio io proverei a schiarirla un pochino. E magari diminuire un pochino i dettagli delle luci, vediamo se la cosa migliora o se peggiora, perché... Eh, qui sta peggiorando perché introduce dei grigi, allora lo lasciamo com'era. E con questo preset direi che ci siamo andati abbastanza vicini, perché io a questo punto gli diciamo ok. E parte la processazione delle tre immagini, che vengono combinate in un'immagine sola, che quindi presenterà le caratteristiche HDR. A questo punto andiamo a raddrizzare la nostra architettura, perché ovviamente le case non sono mai perfettamente dritte e le lenti lo sono ancora meno. Quindi questa foto non è perfettamente dritta. Andiamo a sbloccare il livello, Command-T per trasformarlo, e andiamo a selezionare Distorci. Ora, in questo caso, qui il cambiamento da fare è veramente piccolo. Io tengo premuto Shift e Control, in questo modo con Shift allineo, e non mi va fuori asse, mi rimane agganciato all'asse orizzontale. E con Control, invece, non mi si aggancia automaticamente al bordo, quindi posso fare degli spostamenti anche molto piccoli. E qui direi che ci siamo, qui è ancora un po' disallineato, e anche qui, quindi andiamo a sistemare un pochino. Qui rimane levemente fuori, allora andiamo a intervenire localmente. E risistemiamo anche qua. Un altro colpettino. Ok, io direi che ci siamo. Diamo OK, e qui possiamo vedere prima e dopo. A questo punto, rimpostiamo come unico livello, andiamo a togliere le guide, e l'immagine è pronta. E allora andiamo a togliere. Grazie a tutti